e questo giovedì santo io mi ricordo che finisco di fare i lavori in punta a una salita vicino Torino, faccio una storia su Instagram e poi da lì non mi ricordo più niente. Dal racconto delle persone che erano là e dei miei genitori io arrivo in una via 40-45 all'ora e c'era una panda ferma a destra in precurva e io arrivo verso questa macchina 40-45 all'ora ferma e la prendo in pieno nell'unotto posteriore prendo l'unotto posteriore in pieno di questa panda in faccia infatti date le cicatrici che ho e l'operazione di domani che ho da fare e niente io entro nell'unotto posteriore e da lì succede il casino. Oggi puntata a cui io tenevo tantissimo perché finalmente parliamo di uno sport che mi spiace è un po' minoritario se vogliamo dirla così però è un grande sport di fatica e di insegnamento come dice GX la vita e la bici hanno lo stesso principio devi continuare a muoverti per stare in equilibrio. Con noi Leonardo Martuscelli ciclista quasi professionista. Sì sono quasi arrivato me ne manca ancora un po' perché adesso sono più nella parte giovanile ancora però quest'anno sono allievo secondo anno quindi già si parla già nel futuro quindi adesso le squadre grandi ti iniziano a cercare. Sì iniziano a guardarti. Diciamo al pubblico innanzitutto diciamo al pubblico di Radio Archimede, YouTube, Spotify, Amazon Music e chi più ne ha più ne metta di che anno sei perché un attimo contestualizziamo. Contestualizziamo. Ok no questo perché rende anche un pochettino l'idea visto l'intro che abbiamo fatto della tua giovanità e della tua penso forte dedizione al lavoro. Molto perché già mi dedico tanto al lavoro dalla scuola che faccio già mi chiamano per andare a lavorare. Che scuola fai? Alberghiero. Alberghiero. Ok quindi già abbiamo sdoganato una cosa l'importanza di studiare durante anche comunque un percorso di sport. Questo è importante ma ci arriveremo ci arriveremo. Intanto partiamo con una domanda un pochino più tranquilla. Come stai? Dai tutto sommato abbastanza bene poi sono un po' agitato un attimo perché domani avrò una cosa importante l'operazione da fare dato il mio incidente passato nel 2022 però alla fine sto bene sono contento perché è una cosa che mi servirà più avanti per il mio sport quindi quello di cui parleremo oggi. Certo ok ok. Quindi bene molto. Bene bene questo è già un buon inizio. Partiamo dalle basi nel senso noi qua siamo abituati a ripercorrere un pochino quelle che sono le diciamo la carriera l'inizio. Quindi la domanda che ti farei io è in un mondo dove il calcio è lo sport nazional popolare per tutti. Un bambino un ragazzino come sceglie il ciclismo? Beh allora io ti posso dire che calcio l'ho fatto. Ok. Ho fatto due settimane di calcio pre stagione invernale. La prima volta che ha nevicato ho detto mamma non ci voglio più andare ho troppo freddo basta. Quanti anni avevi? Cinque forse sei perché è partito tutto da lì. All'età di sei anni passammo proprio da San Mauro dalla parte di Pescarito dove si allenava la vecchia mia squadra che era san maurese e io vedi tutti questi ragazzi in bici passare sfrecciare bellissimo su quelle biciclette a strada bellissime. Poi all'epoca che c'erano quelle biciclette vecchiotte a c'erano un casino mi piacciono un sacco quelle biciclette a cinque anni dissi a mio padre la prima volta che ho visto tutti quei ragazzi passare di che volevo andarci volevo provarci solo che era ancora troppo piccolo poi mio padre non era ben certo sembrava sono un capriccio. Voi non lo vedete ma qua c'è c'è il padre di me. C'è il papà c'è il papà che controlla però io continuo ad assillarlo sia a mamma che a papà e poi all'età di sei anni mi portarono con la mia vecchia bici la mountain bike penso che pesava più la bici di me era una cosa bellissima e boh pantaloncini maglietta normalissima e vado a provare. Nella tua società quella che oggi è attualmente la tua società? No quella vecchia la San Maurese. Vado a provare e faccio un giro e vedo tutti questi ragazzi sfrecciare io su fin da subito mi iniziai a cagare addosso scusate ma proprio non sapevo cosa fare dove andare certo però finito questo giro ci fermammo tutti in un punto e il mio vecchio allenatore disse subito mio padre portamelo perché questo ragazzo ha tanto da dire e io fin da subito iniziai andare a prendere la bici subito mio padre subito lì a mettersi al lavoro per trovarmi tutto e iniziai sei anni iniziai ad andare in bici e da lì parti tutto. Eri molto piccolo perché sei anni io non so se ancora se devo parlare per me forse avevo ancora le rotelle a sei anni. No io ho imparato a tre anni e mezzo ad andare senza rotelle. Sì 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 eri molto precoce però magari ce l'avevi dentro perché poi mi dici ho visto a cinque anni dei ragazzi sfrecciare quella bici mi sono innamorato quando quando li ho visti quindi non so sai penso ci siano delle cose a volte del quel fuoco sacro che tu ce l'hai dentro devi solo pescarlo. Tirarlo fuori e capirlo più che altro è quello lui è stato molto bravo secondo me già da piccolo a trovarlo cioè bravo e forse magari anche fortunato nel senso che se quel giorno non avesse visto quei ragazzi sfrecciare con le bici cioè come sempre la vita è un incrocio di situazioni no immagino. Quindi tu inizi a sei anni ad andare in bici e quando capisci che volevi dedicarci sempre più tempo a questa cosa? Allora fino all'età di 11-12 anni era tutto un gioco perché nell'età dei giovanissimi perché è divisa in più categorie come ogni singolo sport e i più piccoli che sono i giovanissimi che vanno dal g1 al g6 tra l'età dei sette anni e 11-12 anni era tutto un gioco perché si andava lì tantissimi bambini si giocava palla prima della gara cioè quindi ti stancava prima della gara sì 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 era tutto proprio un gioco invece poi dall'anno dopo che inizi da esordiente lì allora devi capire cosa fare infatti ho scelto ho dovuto scegliere tra mountain bike e strada perché facevo mountain bike strada pista e ciclocross facevo quattro discipline tutte insieme e lì dovevi capire cosa volevi fare e da lì si inizia a stare più sulla bici che con i tuoi genitori con i tuoi amici con i tuoi parenti magari uscire con la ragazza lì devi capire cosa vuoi fare è uno sport di sacrificio eh cioè non lo so io quando penso al ciclismo cioè la parola che mi viene in mente è proprio sacrificio forse fatica però nel senso come superare la fatica col sacrificio quindi è secondo me è una scelta molto particolare perché vuol dire che chi lo pratica soprattutto a certi livelli ha un forte spirito di sacrificio di dedizione al lavoro che è in tanti altri sport puoi avere un po meno no quindi già a 12 anni tu poi hai scelto visto che non l'hai ancora detto strada e pista e ciclocross ciclocross lo faccio solo in in inverno però il mio maggiore cool non so come dirlo il tuo main su strada e pista ok e come mai hai scelto strada e pista strada strada proprio da dove è partito tutto quindi io sono cresciuto con la bici la strada se mi chiedi di mangiarmi un panino con la salsiccia più buona del mondo andarmi fare 150 chilometri io vado a farmi 150 chilometri anch'io perché tanto la salsiccia non la mangio quindi anch'io io però in macchina li faccio o in moto o in moto e pista pista non è da tutti è una disciplina molto faticosa però che anche a me appassiona tantissimo proprio forse anche più della bici la strada ah sì sì sono molto bravo anche lì l'anno no due anni fa o l'anno scorso campione provinciale torinese due anni fa campione provinciale torinese stavo andando agli italiani però purtroppo l'incidente mi ha mi ha messo fuori dai giochi anche sia sull'italiano di pista che su strada e ci puoi raccontare un pochettino di questo incidente cosa è successo se ti va sì 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 allora parte tutto da un mese molto difficile perché vengo a sapere tre settimane prima di essere stato chiamato per il campionato italiano quindi finisco la mia preparazione due giorni prima di andare quindi il giovedì per partire il venerdì ok e questo venerdì vado esco per andare a fare l'ultimo giro che mi aspettava prima di partire per l'italiano quindi l'ultimo allenamento l'ultimo allenamento da solo che dovevo fare proprio con gli ultimi lavori precarico per l'italiano e questo giovedì santo io mi ricordo che finisco di fare i lavori in punta a una salita vicino torino faccio una storia su instagram e poi da lì non mi ricordo più niente e dal racconto delle persone che erano là e dei miei genitori io arrivo in in una via per andare da settimo a brandizzo via milano mi pare si chiami sì e 40 45 all'ora stavo andando da mio padre nella sua ditta metalmeccanica che c'è a grandizzo e c'era una panda ferma a destra in precurva quella lì per andare vicino mezzi po io non non so cosa stavo pensando erano le undici di mattina quindi sole pieno tu dici visibilità ce n'era in quello intendi ce n'era visibilità ma non ce n'era per tanto sole magari che avevo il sole in faccia sono una serie di dinamiche ecco una serie di dinamiche che non si possono sapere perché io non mi ricordo purtroppo niente però anche meglio così perché forse è meglio che non me lo ricordo perché è stata proprio una brutta botta e io arrivo verso questa macchina 40 45 all'ora ferma e la prendo in pieno nell'unotto posteriore prendo l'unotto posteriore in pieno di questa panda in faccia infatti date le le cicatrici che ho e l'operazione di domani che ho da fare e niente io entro nell'unotto posteriore e da lì succede il casino questo ragazzo per fortuna lo conoscevo perché io ci andavo a fare colazione al mattino il proprietario di un bar che c'è alla rotonda dove c'è amazon e c'è il bar nella rotonda e quelli che fanno quelli che fanno la si si è lui il ragazzo dell'incidente è lui il proprietario e mi ha riconosciuto si mi ha riconosciuto subito ha chiamato mio fratello mio padre mia madre tutti quanti e tutti sono stato 45 minuti sotto al sole perché l'ambulanza non arrivava hanno chiamato l'elisoccorso sono fatto un giro in elicottero adesso che adesso che la racconti scusa se se la metto un attimo cerco di alleggerire un attimo cazzo un giro in elicottero costa un sacco di soldi bellissimo infatti io quando mi chiedono dell'incidente io rispondo sempre mi sono fatto i denti nuovi il naso nuovo e un giro in elicottero gratis gratis tutto gratis ripeto scusami se ho cercato di alleggerire ma tanto non ti preoccupare anche io cerco di alleggerire sempre con questo questo modo di dire alla fine e quindi hai avuto questo brutto impatto con con questa macchina questo nel 2022 quindi un anno e mezzo fa 7 luglio 2022 è passato poco alla fine da questo e questa cosa penso ti abbia poi ovviamente fermo al di là del recupero di salute io sono stato due mesi fermo a solo due mesi sì dopo due mesi prima gara che ho fatto campione provinciale di torino con due settimane di allenamento neanche troppo strong sì pensavo ti fossi fermato per più tempo anche i dottori i dottori pensavano neanche che io tornassi in bici però dopo un mese e mezzo sono tornato in bici primi allenamenti sui rulli quindi motore fermo certo e tu giri e poi prima settimana sui rulli a casa seconda settimana torno in bici su strada è stato difficile perché io non dormivo la notte facevo scenate da pazzo perché non riuscivo ad accettarlo però ho capito che alla fine questo è quello che io farò per tutta la vita quindi rimboccarsi le maniche lavorare duro e andare avanti e andare avanti bravissimo non hai mai avuto paura dire cioè il tuo il rientro in bici non ti ha mai spaventato sai tanti fanno l'incidente in moto adesso faccio l'esempio in auto e poi dopo hanno paura hanno paura di rimettersi alla guida per te invece la bici è come fossero le tue gambe praticamente quindi cioè mi sembra di capire non potevi aver paura di ricominciare a camminare perché per te no sì mi metto anche io un attimo nei suoi panni perché andando in moto conoscendo anche tanta gente che va in moto perché poi quando vai in moto conosci gente che va in moto in effetti poi la vera cosa che succede è lo shock post traumatico cioè nel senso che fai un brutto incidente prima di risalirci diventa impegnativo cioè il fatto che lui non vedesse l'ora di tornarci invece sulla bici dimostra quanto in realtà per te sia fondamentale per star bene immagino che poi pensavo anche non è solo un rientro in bici no il tuo è un rientro in bici agonistico a una certa velocità cioè comunque esatto cioè la bicicletta a 45 chilometri orari ti senti un proiettile cioè è come andare in moto ai 250 all'ora cioè se un fruscello ti tocca te ne vai via se voli via eppure per te non cioè tu questa cosa non ti ha mai fermato no mi sembra di capire io adesso mi riscaldo a 45 chilometri orari cioè mio padre si è dovuto comprare la moto perché non mi sta più dietro quindi wow senti ti faccio una domanda visto che hai detto questa cosa qua come ci si prepara cioè spiegami un pochettino il percorso di allenamento ovvio tu mi dirai magari dipende dal tipo di gara che devo fare no però il percorso di allenamento di un ciclista sì in cosa consiste allora adesso per le nostre categorie giovanili le gare partono verso aprile ok quindi fra due mesetti tre e la preparazione invernale si parte da palestra tutto l'inverno ok palestra muscolare sì sì con pesi tutte le macchine e poi tre quattro mesi prima si inizia a fare magari giri lunghi quindi fondo si inizia magari con se sei già grande ti fai 100-120 km ad allenamento ma non fai tutta la settimana allenamento fai due allenamenti da 100-120 km per iniziare a macinare chilometri prima del presforzo quindi che saranno magari due o tre mesi no due mesi due mesi prima delle gare iniziare a fare lavori quindi ripetute volate in salita lunghi in salita magari un chilometro a tutta volate da fermo quindi partenze da fermo sei fermo sulla bici e vai a tutta subito per 10-15 secondi che sviluppa forza poi magari fai salite lunghe per la resistenza ci sono tante cose però è questa la preparazione alla fine pregare quindi è proprio lo step parti dal fondo per cominciare a riabituare il muscolo alla fatica fare tanti chilometri alla resistenza e poi due mesi prima abituerai il tuo corpo perché alla fine non è solo il muscolo delle gambe è proprio tutto il tuo corpo che ne risente a fare scatti vincere anche solo la volata finale dopo 90-100 km ad andare in fuga perché magari tu fai lo scatto e devi continuare perché non è che se solo fai lo scatto e poi ti fermi fai la fuga devi continuare devi cercare di aumentare il gap il gap e poi ti sta dietro quindi è tutto un insieme di cose mentalità mamma mia infatti volevo proprio chiederti questo cioè quanto è uno sport di testa cioè nel senso quanto c'è di preparazione mentale nel dire io ce la devo fare cioè lo sforzo a cui sei sottoposto è enorme rispetto agli altri sport a cui io posso pensare quindi quanto c'è di testa oltre che di fisico allora di testa nel ciclismo ce ne deve essere molta perché tu potrai avere le gambe più grosse più muscolose più forti il fisico migliore però quando perdi la testa hai perso tutto perché nel ciclismo la cosa che fa prima delle gambe e della tua forza è proprio la testa quindi la preparazione mentale forse anche migliore di quella a livello muscolare dell'allenamento quindi magari quando arrivi al limite fermati prima perché come dico sempre a tutti e ai ragazzi anche più piccoli perché oramai i ragazzi più piccoli di me sembra che mi vedano come un esempio e questo a me fa molto piacere cioè già ed è anche una grossa responsabilità è già una grandissima responsabilità perché tu devi sempre far vedere il meglio di te stesso a questi bambini perché è bello perché loro ti vedono proprio come una sorta di divinità perché loro sono ancora piccoli non capiscono certo cosa ci sarà poi più avanti anche io non lo sapevo anche io vedevo i ragazzi più grandi come delle sorte di divinità gli facevo mille domande come fanno a me eccetera eccetera e quindi quando tu arrivi alla sorta di limite come ho fatto io per l'incidente devi stopparti un attimo perché quando lo superi è troppo tardi e fai cavolate come mi è successo a me io per colpa dell'incidente ho perso tanto a livello muscolare di gare io per il campionato italiano che avevo prima dell'incidente ero il favorito molte persone sapevano che io quel campionato italiano l'avrei vinto quindi ti fa capire che devi preservare anche un po' la tua carriera non rischiare troppo non dare tutto subito tanto le cose verranno man mano cioè Roma non è stata costruita subito ma mattone dopo mattone quindi fare le cose più con calma come sto facendo io adesso perché alla fine quando vedi i primi risultati dici wow posso fare allora do allora do tutto subito invece no anche se vedi i primi risultati devi andare con calma tanto arriva tutto arriva non è adesso che sei piccolo di le vittorie importanti le vittorie importanti saranno già da under 23 che è la categoria prima del professionismo lì devi dare tutto certo anche perché poi immagino che lì arriva il momento in cui devi effettivamente farti notare già le prime squadre world tour ti chiameranno dai juniores e c'è gente che già dal primo anno di juniores che è la categoria dopo di quella che farò io quest'anno ti chiamano per già correre con i professionisti quindi con calma tutto tutto arriva tutto arriva qual è la la il momento forse più emozionante che puoi ricordare c'è stato un momento magari in cui ti sei emozionato per un risultato per una vittoria o un allenamento riuscito o da bambino lo so allora il forse il campionato provinciale che ho vinto subito dopo l'incidente è stata una cosa molto emozionante perché è stata una cosa voluta di squadra io non ho vinto la gara io nella gara sono arrivato nono però tutti quelli che sono arrivati prima di me non erano della provincia di Torino ma erano fuori quindi magari altre province è stata una vittoria di squadra non solo di Leonardo Martuscelli io sono arrivato all'arrivo urlando di felicità con i miei compagni che erano dietro di me perché sono stati loro ad aiutarmi a farmi arrivare a questo punto ti hanno accompagnato i miei compagni i compagni di squadra i miei compagni di squadra fanno tanto nel ciclismo sia a livello morale di testa che di gambe di tutto perché loro mi hanno aiutato proprio tanto eppure non si direbbe perché uno pensa al ciclismo pensa a uno sport solitario invece di squadra ma tantissimo ci tengo a fare un attimo un disclaimer non so se lui l'ha visto ma penso di sì ti consiglio anche a te Fede su Netflix c'è una serie tv girata e prodotta dagli stessi che hanno prodotto la serie quella sulla Formula 1 legata al Tour de France ho guardato degli spezzoni ma non sono riuscito a vederla tutta quella consiglio a tanti di quelli che stanno ascoltando la consiglio anche a te perché ti fa capire proprio che cosa c'è dietro al ciclismo al ciclismo e a quanto non è uno sport singolo ma è uno sport di squadra è un uno sport pieno di tattica piena di studio di analisi confermami se è così c'è quanto c'è di analisi di capire questa tappa è meglio per Leonardo è meglio per Federico dobbiamo cercare di allora anche il discorso del Gregario molti dicono io devo fare Gregario che noia io sono qua per vincere e in realtà poi anche nella serie vedi quanto quello che ha fatto Gregario che si è sbattuto come un matto fino magari a 10 km dall'arrivo e poi è arrivato con 20 minuti di ritardo perché era morto sia felice come un matto perché ha contribuito alla vittoria del compagno di squadra quindi quanto c'è la squadra dietro la squadra fa tanto anche perché alla fine tu da Gregario lavori sempre per una persona a cui sei molto attaccata perché alla fine oramai a questi livelli vivi più con i tuoi compagni di squadra con il tuo DS che è il direttore sportivo che con i tuoi genitori con i tuoi familiari quindi è proprio papà conferma quindi è proprio una cosa affettiva cioè tu hai vinto però ha vinto tutta la squadra perché tutta la squadra ha fatto qualcosa per te e se io ho fatto il Gregario a te poi tu farai il Gregario a me quindi io so già che arriverà perché tutto arriva pian piano e questo è un grande insegnamento dello sport perché avere la consapevolezza a 15 16 anni tutto arriverà bisogna solo prendersi tempo io non ce l'ho adesso che ne ho 28 a volte io vado dritto come un treno e non ho questa consapevolezza di dire oh mio Dio tutto arriverà andiamo con calma per l'età per l'età che hai Leo sei molto molto maturo grazie penso che sia anche dovuto al fatto che tu hai degli obiettivi ben chiari magari anche tutto quello che hai vissuto ti porta a vedere le cose un po' in maniera diversa e si nota tantissimo ti faccio adesso proviamo a alleggerire un po' ti faccio questa domanda visto che sei un ciclista dimmi chi è il tuo ciclista di riferimento a chi ti ispiri tu ce ne sono tanti Cristiano Ronaldo o Messi no allora siamo partiti da Vincenzo Nibali a Peter Sagan a Chris Froome allo Squalo quindi lo conoscete bene sì 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 ce ne sono tanti più velocissimi o più scalatori io adesso sono un po' un mix perché vado abbastanza forte in salita però adesso sta andando più forte un po' in volata sulla resistenza quindi vi direi proprio Peter Sagan perché Peter Sagan è un velo cistone proprio da paura ha fatto cose immemorabili ha vinto non mi ricordo più se cinque o sei campionati del mondo in volata andava forte anche in salita lui andava forte per tutto io mi ispiro molto a lui perché alla fine è stata una persona molto criticata dicevano sempre che se la tirava che lui era la persona più di qua di là però lui è stato sempre costante quello secondo me contraddistingue un campione da una meteora o da un talento il talento magari fa un anno fa un esplode di un anno di una stagione il campione magari ti fa 15 anni adesso io dico così però 10 anni di costanza lui ancora all'età di 37 36 anni vinceva ancora c'è gente che a 35 anni già spetta di andare in bici ci sono la maggior parte credo smettano a 35 anni verso i 40 anni è finita la tua stagione ciclistica perché ci sono i ragazzini di 20 anni che adesso vanno a 40 all'ora in una salita all'8% che per chi non è avvezzo a queste cose vi assicuro che è difficile forse non lo faccio neanche in moto i 40 all'ora in una salita così no lui è stata una persona molto umile perché una persona molto umile costante come dico io costante perché alla fine devi essere costante perché fai l'anno magari che vinci poi l'anno dopo sparisci dove vai molti molti nei grandi tour tour de france giro d'italia vuelta che sono un po' i tre i tre maxi tour annuali li vedi gli exploit di quei ciclisti che poi però spariscono cioè fanno l'expload quell'anno in uno dei tre tour e poi chi lo sa cioè nel senso non lo vedi più da nessuna parte e invece i veri professionisti poi li vedi perché restano restano per anni cioè te li porti dietro e adesso comunque non ha smesso perché lui ha preso a fare mountain bike quindi non è che dice ha smesso proprio del tutto lui sta continuando e lui viene veniva dalla mountain bike era lui che prima della strada aveva fatto un percorso non mi ricordo non mi ricordo bene non penso lui mi ricordo un'immagine di Peter Sagan che impenna la bici da strada ci sono un matto lui faceva di tutto sulla bici da strada impennava senza mani con una mano con i denti con tutto un matto sì sì però ti rendi conto che nascono sulla bici cioè quando io vedevo che uno come Peter Sagan o uno come Nibali io li paragono a Valentino Rossi cioè nel senso che li vedi che su quel mezzo sono come noi camminiamo forse ancora di più è un pezzo unico nel senso che se io guardo oggi anche trasporto un attimo sulle moto che è un mondo che conosco bene sono sempre due ruote alla fine ci sono oggi dei campioni in MotoGP perché comunque per arrivare lì sei un campione che però non hanno quella roba lì cioè li vedi però sono molto forti molto bravi però non hanno quella roba lì cioè Marquez possiamo odiarlo quanto vogliamo un personaggio discutibile però è un pezzo unico con quella roba lì cioè è una roba che funziona solo così cioè come era Valentino Rossi come sono personaggi come Froome come Nibali come Sagan cioè lo percepi anche uno che non ne sa nulla guardandoli percepisce che sia un pezzonico sia un tuttuno cioè tolto da lì forse fai fatica a camminare perché sei abituato a spostarti solo con le due ruote no assolutamente quindi qual è se io ti dovessi chiedere qual è il tuo obiettivo ad oggi eh non voglio dirti punto a vincere il Tour de France magari un giorno lo vincerai e magari torni e magari ovvio ovvio certo adesso tutti parlano di obiettivi di oggi però secondo me è meglio parlare di obiettivi che ai più a lungo termine qual è il tuo obiettivo a lungo termine il mio obiettivo a lungo termine ovviamente è diventare un professionista perché io è quello che sogno da quando ho sei anni che ho iniziato a fare il ciclismo adesso tutti i ragazzi parlano di vincere io devo vincere l'italiano di strada devo vincere l'italiano di strada di quest'anno o arrivare nei dieci però a te non ti serve quello a te ti serve pensare a lungo perché tu vinci l'italiano di strada adesso e se magari il prossimo anno arrivano gli altri tu cosa fai? anche perché immagino che il tema sia un po' come nel calcio no? cioè ci sono centinaia di ragazzini che fanno che fanno ciclismo però poi a fare il tour o a fare comunque il professionista di livello ce ne va uno cioè quindi bella anche questa roba che quindi tu dici per potermi distinguere effettivamente provare a raggiungere il mio obiettivo non devo vincere il campionato italiano ma devo essere tra i migliori a ogni gara che faccio per anni questo è il modo perché magari ci sta che vinci l'italiano perché c'è la giornata giusta certo però vinci l'italiano poi tutto l'anno non fai niente che che immagine dai a a una squadra alla squadra vabbè sì a te stesso perché devi essere brillante sempre non è che se brilli la sola gara magari il più forte che hai nella nella tua squadra nella tua categoria ha avuto stava male o ha avuto la giornata no perché ci sono tante giornate no all'alciclismo perché tu ti puoi svegliare magari che hai il 100% di te stesso magari che c'hai solo il 40 il 50% di te stesso e te ne accorgi solo quando sali in bici non te ne accorgi magari tu stai benissimo fuori dalla bicicletta sei pimpante salti ridi scherzi con tutti quanti poi sali in bici bruciare le gambe mal di gambe mal di schiena e magari c'è il giorno che stai più male di tutti e sei pimpante in bici che proprio vai vai 2000 senti Leo ti faccio questa domanda adesso tu dicevi adesso stavi dicendo l'importante è essere costante nell'allenamento nella nella dedizione per poter poi raggiungere i miei obiettivi quindi l'essere costante in uno sport come il il tuo vuol dire allenarsi tanto vuol dire fare molto i sacrifici quanto quanto conta per te in questo percorso di costanza e di sacrificio la tua famiglia cioè quanto ti è stata vicino quanto è importante anche se penso non vi vediate tantissimo ma allora la famiglia è penso la cosa più importante nel ciclismo perché è quella che innanzitutto ti mantiene quindi ti dà tutto a livello morale e a livello anche di soldi perché alla fine nel ciclismo si parla tanto di soldi io adesso la bici che c'ho costa tanto troppo fin troppo immagino qualche migliaia di euro 10.000 euro ecco non voleva certo vabbè adesso io rido però nel senso rido perché ho visto la faccia del padre sì sì mio padre sta facendo tanto certo ovvio non solo mia madre i miei fratelli mia madre e mio padre stanno dedicando fin troppo tempo a me io io questo lo penso però devo essere seguito io chiedo scusa tanto ai miei fratelli perché sono stati tanto trascurati per il mio sport quindi la famiglia serve proprio tanto i genitori sono la parte fondamentale del penso tutti gli sport perché soprattutto per una cosa che ti appassiona tanto hai bisogno del loro sostegno altrimenti non non puoi farci non puoi farci quindi mi sembra poi lo vedo c'è un legame molto forte tra te e la tua famiglia papà si vede ma poi si percepisce anche adesso da come ne parla quindi immagino che tutti gli sforzi che fai li fai anche pensando a certo anche per loro perché loro mi hanno sempre dato però io non sono sempre mai riuscito a fargli ritornare tutto al 100% come il 100% che mi danno loro a me però ci si lavora loro sanno che io do tutto esatto ma questo è questo è il tuo restituire capito questo già è una parte di restituire e se tu non fossi così probabilmente loro avrebbero anche allentato di dedicare così tanto perché se non vedessero in te quel fuoco è quella voglia quell'impegno quella dedizione probabilmente anche loro ti avrebbero preso ti avrebbero detto sì però anche meno calmiamo su un attimo se non c'è da parte se era quel famoso capriccio di cui parlavi inizio puntata sarebbe finito nel giro di poco e invece oggi è continua perché è diventato il tuo motivo di vita quindi è già quello il tuo ricambiare poi un domani come dici tu con la costanza con il sacrificio magari il tutto arriva l'ho imparato da loro perché io prima come dicevo volevo tutto subito perché avevo visto i primi risultati quindi mi allenavo con un pazzo sempre in bici di qua di là ed è successo quello che è successo e loro pian piano mi hanno fatto imparare che il tutto arriva con calma e forse te lo insegna anche il tuo sport no perché quando devi farti una salita perdonatemi il francesismo ma una salita della madonna non puoi dare tutto all'inizio perché se no tu arrivi a un terzo della salita e sei morto e cadi per terra per forza di gravità se hai una salita di 5 km non puoi dare tutto più di un chilometro e quindi la dedizione del dosare le energie per arrivare fino in cima te lo insegna al tuo sport e diventa anche un insegnamento di vita è un po' il nostro mantra di questo podcast stiamo pensando quello come lo sport ti insegna a vivere ed effettivamente nel tuo caso il ciclismo è uno di quelli che forse fino ad oggi di questa seconda stagione è quello che più è vicino a questo mantra del piccoli passi ogni giorno le ho detto una cosa non so se tu ti ricordi noi abbiamo avuto un mental coach in questo programma una è venuto due volte Lorenzo Buccolo si chiama che è mental coach sportivo una volta in prima stagione una volta in questa seconda stagione tra l'altro ti invito ad ascoltare perché hai detto il tutto subito non va bene c'è stato proprio un passaggio in cui noi parlavamo con Lorenzo del tutto e subito come proprio accezione negativa sull'impatto che ha su un atleta perché il voler tutto e subito ti porta poi in realtà o a mollare perché non vedi i risultati perché comunque se tu pretendi tutto subito non potrai averlo ovviamente perché è naturale quindi molli oppure perdi completamente la testa la via invece essere focalizzato sul migliorarsi un pezzo alla volta come stai dicendo tu è fondamentale ed è bello che un ragazzo così giovane lo abbia già lo abbia già capito lo stia già facendo nel male magari perché anche probabilmente a causa anche dell'evento che ha vissuto però un po' come diceva anche Lorenzo dagli eventi che vivi tu devi trarne la parte positiva no? perché comunque alla fine della fiera se ci soffermiamo solo sulla parte negativa della cosa che ci succede non esci vivo questo io l'ho imparato da poco perché io prima del mio incidente guardavo solo la parte negativa però adesso sto cercando di aprire un attimo la mia mente cercare di capire anche la parte positiva perché io dalla parte negativa ne trarrevo solo i pianti per la mia cicatrice che c'ho in faccia le operazioni che dovevo fare il nervosismo perché ho perso molte gare l'italiano però adesso tu devi guardare anche il lato positivo oramai quello che è successo è successo lasciamo un attimo il lato positivo quindi sei cresciuto di testa non hai più il tutto subito ma pian piano sei cresciuto proprio come persona perché alla fine le cose brutte come diceva Gabriele ti crescono quindi sì poi io ti dico nel senso sono anche uno che ne ha viste di cose impegnative e sono anche uno che fa un po' fatica ad accettare quando la gente ti dice ma le cose negative ti aiutano dopo un po' che palle nel senso ci sta a dire anche un po' che palle a un certo punto però dall'altra parte invece imparare a leggere il positivo da una situazione negativa è un grande insegnamento avercelo a 15-16 anni 15 anni lo dicevo nella puntata con Lorenzo a 15-16 anni tiravo le uova il venerdì mattina a Torino quindi cioè capire avere la maturità che ha lui e facevo sport certo però facevo uno sport diverso giocavo ovviamente penso fondamentale divertirsi sì adesso alla fine è ancora un divertimento esatto ma questo per un tuo benessere altrimenti ti carichi di tante responsabilità però diventa diventa una roba che mentalmente non va bene sembro grande a 15-16 anni però alla fine di testa non riesci ancora a superare tutte queste queste cose per quello devi prenderlo ancora come un divertimento perché sennò è fin troppo più che altro ti carichi di stress ti carichi di responsabilità di pressione e poi non sei neanche performante alla fine no per niente infatti ci sono dei ragazzi che alla fine hanno vinto tanto hanno fatto tanto nella loro carriera però adesso da giovani che ora non fanno più niente ma perché si sono caricati troppo prima ma erano troppo piccoli quindi non riuscivano a capire non riuscivano ad analizzare un attimo la situazione e sono scoppiati allora Leo siamo arrivati purtroppo alla fine della puntata è stato è stato un bellissimo viaggio è stato davvero un bellissimo viaggio firmiamo già un foglio che se lui diventa professionista torna va bene va bene tornerò lui torna e no adesso a parte gli scherzi in bocca al lupo davvero per tutto grazie per il viaggio che ci hai fatto fare perché è stato veramente bello ed interessante e ricordo a tutti di iscriversi al canale seguirci su Instagram TikTok Facebook Spotify soprattutto soprattutto Spotify sono già iniziato ad uscire tutte le puntate e grazie ancora a Leo complimenti davvero è stata una puntata veramente molto bella lo dico onestamente me l'aspettavo diversa grazie ancora e in bocca al lupo grazie mille ciao 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 grazie a tutti ciao Grazie.